Valore, moneta, tecnologia, capitalismo e scienza economica. Questi oggetti della scienza economica, cioè tecnologia, moneta e valore, sono oggetti che condizionano anche la nostra vita. Ma normalmente quando pensiamo alla scienza economica non pensiamo di rivolgere una domanda di senso fondamentale come quella di dirci qual è il nostro posto nel mondo. Al massimo pensiamo che le scienze economiche riducano la nostra esistenza a una misura monetaria, a un valore che però condiziona l'accesso. Il potere che abbiamo in tasca dato dalla moneta è ciò che poi ci permette, consente l'accesso effettivamente di godere delle condizioni materiali della nostra vita, della nostra esistenza. La proposta di Andrea è invece che appunto la scienza economica dovrebbe aiutarci a capire come disciplina umanistica, aiutarci a capire proprio quelle che sono le nostre condizioni di esistenza, ma anche capire questa fase di transizione del mondo. lascio a te questa convenza di dirci che ci succede. Allora, questo testo solleva una serie di questioni di domande, non dà delle risposte, ma avrebbe l'ambizione di porre alcuni temi sui quali si dovrebbe discutere per eventualmente trovare delle risposte. Il problema nasce dal fatto che negli ultimi trent'anni, anche sulla base della mia esperienza di docente universitario, l'insegnamento e lo studio della scienza economica è diventato preeminentemente uno studio che va da un lato verso un'ultra specializzazione e dall'altro ha l'ambizione di declinarsi in maniera tecnica e empirica. E non è caso che la metodologia che è in corso oggi è essenzialmente quella dell'economia applicata attraverso l'uso di una metodologia che è quella della logica formale, ossia della logica matematica. Il pensiero storico, sappiamo già da partire non solo dagli antichi greci, ma anche prima, ha partorito come minimo due forme di logica, tenendo per la logica quella disciplina che è in grado di trovare un metodo di comunicazione delle conoscenze. La logica argomentativa, o logica aristotelica, è la logica matematica, cartesiana. Di solito, andando per l'accetta, le cosiddette scienze dure, cioè la fisica, la chimica, la biologia, cioè quelle in cui è possibile sviluppare una visione sperimentale, a partire dal metodo di Vili De Iane, da Cartesio, della rivoluzione copernicana e dalla crisi della metafisica, ha privilegiato la possibilità di utilizzare il concetto di misura come processo di validazione delle conclusioni che si vuole ottenere. Nel momento in cui sono in grado di misurare e arriva un risultato empirico espresso in termini matematici, siccome 2 più 2 fa sempre 4, e non si può negare che 2 più 2 faccia 4, quel risultato viene considerato oggettivamente rigoroso. Poi in realtà sapevo che non è anche così con le scienze cosiddette dure, perché lo sviluppo della statistica baesiana ci ha dimostrato che non è proprio esattamente così certo. Mentre la logica argomentativa, che non utilizza il calcolo matematico, quindi non si vuole il problema di dare delle misure, che possono validare una certa asserzione, è quella che maggiormente è stata utilizzata nello studio dei filoni umani. Le scienze non duro, scienze umanistiche, inizialmente. L'economia politica nasce alla fine del Settecento come scienza del capitalismo. Se non ci fosse stato il capitalismo non ci sarebbe stata l'economia politica. E nasce per studiare l'organizzazione sociale che il capitalismo si dà. Quindi la scienza sociale è, chiamiamola pur umanistica, perché ha a che fare con l'analisi delle relazioni umane. Seppure una fattispecie particolare che è quella delle relazioni economiche, non solo le relazioni too court, umane nel senso pieno del termine. Ecco, la svolta che è iniziata con lo sviluppo delle teorie varrasiane, in particolar modo Léon Varra, economista francese, nella seconda metà dell'Ottocento, è quella di cercare di piegare le relazioni umane nella loro relazione di carattere economico, individuando una precipo attività economica in grado di sussubbliare tutte le altre, che è l'attività di scambio. E attraverso l'analisi delle condizioni di scambio si capisce qual è il tipo di relazione economica sottostante. Tutto è riducibile a scambio. Lo scambio può essere analizzato in termini di logica formale. E quindi inizia esserci questo processo di una grande ricchezza che ha portato l'economia politica che nasce come scienza storica, come scienza sociale, come scienza umana e si trasforma in una scienza formale che utilizza la modellistica matematica e le forme di trasmissione del sapere tipiche della logica formale. C'è uno stravolgimento in questo. E questo è il tuo punto. Oggi questo processo è arrivato addirittura a dei livelli parassistici, diciamo. Faccio riferimento a quel famoso caso, nessuno dico come aneddoto, del 1996, credo, in cui un fondo di investimento statunitense ha avuto un fallimento clamoroso. Era Long Terms Capital Assets, mi sembra che si parla. LGTS termini questo fondo. E' fallito, nel suo fallimento, con l'effetto domino tipico dei mercati finanziari, c'è stato un trascinamento molto più limitato di quello che sarebbe successo nel 2007-2008 con la crisi della Levan Brazzer. Bene, questo fondo era stato gestito su dei calcoli matematici, sulla base delle quali si cercava di misurare le aspettative future attraverso le tecniche più sofisticate del calcolo della probabilità, soprattutto la matematica di numeri complessi, delle modelli non lineari, la teoria del caos, delle biforcazioni, che sono tutte quelle strumentali e matematiche che oggi viene utilizzato anche nel calcolo delle previsioni finanziarie, eccetera. E questo calcolo, su cui si era basato questo fondo, si era basato sugli studi di due economisti, Berners e Schober, che l'anno prima avevano vinto il premio Nobel proprio per questi studi. Cioè, sogno di trovare uno strumento che potesse misurare l'incertezza. Allora, finché io faccio dei calcoli previsionari sulla base di un set di informazioni relative a delle fenomeni fisici, cioè le previsioni del tempo, adesso siamo arrivati a un livello di sofisticazione tale per cui nell'80% dei casi la zetta. Perché le tecniche, gli strumenti, le possibilità di calcolo, la velocità di calcolo, e prima che figurasse, sempre che avevano stati i computer o gli algoritmi o i big data, avevano riuscito a fare tutta la serie di calcoli, anche quelli più complessi. Beh, ecco la paradossale che quando questi due economisti hanno visto il premio Nobel proprio perché avevano trovato questo metodo in misura di incertezza, loro diventano il manager di questo fondo di investimento e l'anno dopo che hanno preso il premio Nobel la pratica ci rivela che questo tentativo di misura di incertezza non è assolutamente realistico. a sfidare il fondo crore e viene fra un patatacca. Per dire che oggi l'economia politica si presenta come scienza esatta e viene studiata come tale. Infatti, si sostituiscono gli esami di carattere di sociologia economica, di storia economica, di storia del pensiero con esami di statistica e di econometria. Econometria è la misura dell'economia. Beh, allora la domanda è uno che si può porre e dice ma perché è successo questo? E la risposta è molto semplice perché naturalmente la politica è la scienza del principe. È una scienza di potere. E il potere si legittima facendo credere che quello che lui fa è oggettivamente vario. Vi ricordate il mantra There is no alternative? È questa. È così. In realtà la storia recente dell'ultimo vent'anni ci mostra esattamente l'opposto. Cioè noi abbiamo avuto una parte della tendenza degli studi H, soprattutto accademici. prima negli Stati Uniti negli anni 80 e 90 e poi nell'Europa negli anni 2000 è intaccato anche la scuola economica italiana che aveva delle fondazioni storicistiche negli anni 70 così come quella francese a differenza di quella anglosassoni e al punto tale che oggi c'è una situazione un po' particolare per cui negli Stati Uniti nelle grandi università che danno i dottorati in economia come Stanford come Harvard come MIT iniziano a rinserire all'interno dei programmi di dottorato i studi di epistemologia di storia economica e di sociologia perché stanno facendo un passo mille. In Europa in Italia e in Francia siamo ancora nella fase lunga dell'idea che il calcolo è la base della scienza economica. Questa è la premessa. Allora da questa premessa ne analizzo tre variabili che a torto ragione ritengo quelle fondanti in pensione economica cioè valore, moneta, tecnologia che sono le tre variabili che definiscono il sistema caratteristico e vado a analizzare qual è stato il dibattito economico su queste tre variabili. Poi se vogliamo entrare più nel merito possiamo iniziare a trattare quali sono i punti nodali sulla questione del valore. Perché le merci ha lo valore? Che non significa fare una teoria dei prezzi. perché una delle conclusioni della teoria mainstream è che il valore di una merce corrisponde al prezzo il prezzo è visurabile. La domanda che se la posto da Smith se la posto di Carlo se la posto soprattutto Mars ma questo prezzo corrisponde al valore della merce al contrario qual è il valore di una merce? Da che cosa dipende? Poi la questione della moneta è perché la moneta è diventata così importante e la tecnologia faccio notare semplicemente che moneta e tecnologia sono i due essi importanti dell'organizzazione capitalistica della produzione mentre non avevano un ruolo così fondamentale nei periodi storici precapitalistici con l'esclusione forse della città ma questo è un altro discorso la tecnologia e la moneta diventano fondamentali con l'avvento del sistema capitalistico.